Un giardino incantato con centinaia di farfalle dai mille colori che volano libere spinte dal vento. No, non ci troviamo in un paese tropicale, bensì a Pietrasanta, dove nella suggestiva cornice della via di mezzo nel cuore storico della città si nasconde da qualche giorno un luogo magico, incantato. Dopo la strada degli ombrelli volanti dello scorso anno, con decine di migliaia di fotografie sui social, molti furono selfie VIP, l'estate 2018 grazie allo straordinario lavoro delle maestranze comunali, ci porta nella strada delle farfalle volanti, che si ispirano all'opera dell'artista spagnolo Manolo Valdez, Mariposas, protagonista della mostra dell'estate nel cuore della piccola Atene. L'obiettivo dell'amministrazione Giovannetti è replicare il grande coinvolgimento scatenato l'anno scorso dalla strada degli ombrelli per sostenere le attività della consulta del volontariato, impegnate in progetti sociali condivisi dalle associazioni del territorio. Le mariposas, ovvero le farfalle, potranno essere personalizzate con una dedica sulle ali e saranno quindi utilizzate per l'allestimento dell'albero di Natale, che sarà prodotto dalle maestranze operaie del comune di Petrasanta. Anche il grandissimo Mimmo Modugno, nel 59, dedicò una canzone a questo bellissimo e coloratissimo insetto dal titolo Le Farfalle, scritta insieme a Franco Migliacci. Mister Volare vedeva mille fiammelle che facevano luce agli innamorati, quella stessa luce che per tutta l'estate dara vita e colore alla via di mezzo a Petrasanta e via Versile a Tonfano.